Una considerazione generale sull'amministrazione pubblica, Regione Lombardia ad esempio ha 3.000 dipendenti pubblici ed ha servizi mediamente efficienti e di qualità a 10 milioni di cittadini italiani lombardi, mi sembra assurdo che il Comune di Roma abbia 30.000 dipendenti pubblici che diventano 60.000 dipendenti pubblici considerate le partecipate, per servizi, quello dei trasporti, quello della gestione dello smaltimento dei rifiuti, di qualità assolutamente pessima. Allora io credo che debba valere una regola, che è una regola generale, il dipendente pubblico che lavora e che lavora bene va ovviamente premiato, il dipendente pubblico che fa il furbo a lunedì, che fa il lavativo, che non lavora o che lavora male, le cui inefficienze si producono e poi si riversano sul cittadino e sui servizi pubblici essenziali, ovviamente facendo l'esempio di Sanremo, facendo l'esempio dei vigili della polizia locale di Roma l'anno scorso sotto Natale, evidentemente questi dipendenti pubblici che sono tra l'altro rispetto alla crisi complessiva dei fortunati, perché il posto di lavoro ce l'hanno comunque sempre, lo stipendio ce l'hanno comunque sempre rispetto al privato, io credo che nei confronti di queste persone serva fermezza e serva nurezza, la legge Brunetta andava esattamente all'epoca, nel 2009 andava esattamente in questa direzione.